Dopo Michael De Marchi, altre due cessioni ufficiali per il Pescara. Sono delle ultime ore infatti le trattative concluse con potenza e indipendiente per Andrea Di Grazia ed Edgar Elisalde, entrambi a titolo definitivo. Due giocatori che da tempo non rientravano più nel progetto tecnico bianco-azzurro. A maggior ragione adesso che sta per essere completamente ridisegnato con il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Per l'attaccante, problemi fisici a Foggia nell'ultima stagione e la possibilità di riscattarsi in Basilicata, sempre nel Girone C. Sempre in Sud America, ma cambiando nazione dall'Uruguay all'Argentina, quello che capiterà ad Edgar Elisalde, 11 presenze nel torneo di apertura e 5 in Coppa Libertadores. In entrata invece si complica la strada che doveva portare a Davide Ghislandi. L'esterno destro di proprietà dell'Atalanta sembrava ad un passo dal Pescara con cui era tutto fatto, ma il pressing delle ultime ore della Triestina potrebbe aver fatto cambiare completamente le idee al ragazzo e cambiato anche le carte in tavola per quello che riguarda il suo futuro del classe 2001 cresciuto a Zingonia. Si profila una vera battaglia con gli alabardati per assicurarsi le prestazioni del giovane cursore. Sempre in entrata, ma in tutt'altra zona di campo, invece c'è l'interesse forte, non solo del Pescara, per Antonio Vergara del Napoli. Il talento della primavera azzurra non è partito per il ritiro di Di Maro perché è vicino al trasferimento per fare esperienza in Lega Pro. Su di lui il DS Delicari ha messo gli occhi, ma il Delfino non è solo nella corsa al giovane centrocampista del 2003. Vergara è stato uno delle punte di diamante della formazione allenata da Frustalupi e tra gli elementi di spicco dell'intero settore giovanile partenopeo. In questa stagione dove ha avuto anche qualche acciacco fisico, Vergara ha collezionato contando campionato e play-out, 5 gol e 13 assist, risultando il miglior assistman del campionato primavera 1 insieme al gemello Giuseppe Ambrosino. I due calciatori sono stati osservati da Luciano Spalletti e dal suo staff, tanto che la convocazione per il ritiro di Di Maro pareva abbastanza scontata. Così, almeno per lui, non è. E allora su questo prospetto si sono fiondate, oltre ai biancazzurri, anche Cesena, Vispesaro e Provercelli, quest'ultima che sembra essere al momento la candidata principale ad assicurarsi le prestazioni del giocatore nato a fratta minore. Entro lunedì Vergara prenderà una decisione, scelerà il progetto più adatto a lui, ma la Pro, il cui direttore sportivo è Alex Casella, sarebbe molto vicino a fargli vestire la casacca della formazione piemontese e portarlo nel girone A di Lega Pro.